Renato Lavarini, possiamo dire che il 2018 è stato per te, dal punto di vista professionale, un anno di grande scommessa, di grande impegno, ma di grandi risultati? Ci ho creduto molto, come tanti hanno creduto nel risultato positivo e confesso che il primo luglio, quando su quel tabellone del Comitato Mondiale è apparsa la scritta Inscribed, c'è stato lo scioglimento proprio di qualsiasi tipo di tensione ed è stato veramente fantastico riuscire a portare a casa il lavoro. Adesso però comincia un 2019 che ha bisogno di mettere a frutto il valore di questo riconoscimento Unesco. Cosa si prepara per Ivrea? Intanto si sta muovendo tantissimo intorno al sito Unesco, che ricordo che i cui beni sono per il 98% privati e i privati stanno credendo in questo risultato. Poi l'anno prossimo, il 2019, sarà l'anno in cui formalmente celebreremo la posizione, come si dice, della targa di patrimonio mondiale, della lista del patrimonio mondiale Unesco e in questa situazione, in questo momento, cercheremo di organizzare degli eventi, dei convegni, delle attività che raccontano non solo i valori dell'Unesco ma soprattutto i valori che Ivrea, città industriale, ha portato nel patrimonio Unesco. Ultima cosa, dovremmo arrivare ad avere un visitor center attivo, bello, dove poter svolgere non solo il lavoro di informazione turistico-culturale ma dove fare attività sempre che raccontino i nostri valori.